ehi ciao perché siamo così storti oggi non so che cazzo bentornati benvoluti ben amati oggi shinkansen ci ho messo una vita per impararlo da dislessico ragazzi cos'è lo shinkansen lo shinkansen è il treno proiettile che si basa su una tecnologia a levitazione magnetica incredibile ma vero lo conoscerete sicuramente ci sono foto video che rappresentano questo treno che direi essere il più elevato successo della dell'avanguardia ingegneristica mondiale ovviamente giapponese pulito perfetto silenzioso scia su queste piste d'acciaio che però ha vagoni per uomini e per donne perché si molestano vicino un paese libero un paese meraviglioso e noi oggi saremo lì all'interno di uno di questi vagoni a rifare 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 il vagone cercando delle differenze uno di quei giochi horror lì uscito sviluppato dalla cilla sarte che abbiamo ormai imparato ad amare e nel mentre io sono talmente ricoperto di peli di cane che vi giuro l'altra sera ho sputato una palla di pelo bentornati oggi è giovedì venerdì non lo so non ho idea ho perso completamente la cognizione del tempo oggi è giovedì oggi ragazzi horror night domani ragazzi ci sarà sempre un horror night ma vi ricordo che vi facciamo vedere la prima puntata dei ghost fuckers quindi siateci alle 21 e 30 prima ve la facciamo vedere poi commentino veloce di quello che è stato e poi minchieraft minecraft tra l'altro alcuni di voi mi stanno scrivendo sui social mattino dino sai che è uscito evil nun 2 il gioco della suora quello che tanto ha emato il primo e che sicuramente non ti ha fatto venire dei mani di testa ti ricordi quel gioco per la quale avevi detto se uscirà un prossimo capitolo non lo porterai ecco è uscito il secondo non è vero siete dei cazzo di bugiardi io vi voglio bene vi darei un abbraccio con striptor vi veramente vi scuoterei le guance con in mano non lo so dei 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 guanti coperti di carta stagnola molto appuntiti ma non è uscito quindi perché farmi perdere del tempo a cercarlo su stea em la miglior piattaforma presente sul pc perché l'unica perché l'unica incredibile dino hai riscattato la chi che ti ho inviato no non grazie ma non l'ho fatto non ho avuto completamente tempo mi dispiace ragazzi vi sto un po ignorando perché in sto periodo siamo dietro al progetto che di coso di ghost fuckers sono sto editando da una settimana sto cazzo di video che ormai praticamente pronto e venerdì esce e quindi siamo dietro all'editing e pensate uno dei feedback delle fonti certe uno dei feedback che abbiamo avuto è il montaggio è amatoriale non c'è niente di bello non c'è niente di più bello che una volta che ti sei fatto un culo così per fare una cosa ti senti dire sai oh ma che meraviglia ma che meraviglia delle volte vorrei entrare all'interno del mio riflesso lanciandomi a corpo morto così dentro uno specchio per vedere che succede e per smetterla di soffrire sostanzialmente ma quindi insomma dino che ne pensi della qualità della quantità esorbitante di edit su di te sono estremamente lusingato e voglio voglio che continuate sono tutti bellissimi rido come un rido come un deficiente in cucina ovviamente non si sente la voce cioè la vale è lì con me e vede me che faccio e non sa cosa sta succedendo e io in quel preciso istante non si sente non si sente neanche il suono fatelo continuate per favore spargete il verbo di cop tv io apprezzo hai visto la tier list no la triste eh non ho letto la il thirst edit su di te credo non lo so cosa vuol dire non ne ho idea forse thirst first cos'è eh dirò quando giochi di nuovo alla nave fantasma voglio vedere come finisce e mi sa che settimana prossima andiamo avanti facciamo tutto quanto ragazzi dai però fermi fermi lo so che state scalpitando che non aspettavate altro che vedere questo meraviglioso shinkansen zero gioco della cilas art nuovo capitolo che si sta un po omologando a quello che è l'andazzo definitivo di questi giochi oro dove scovi le differenze e si dice proprio sco scovi le differenze però ci sono ovviamente le notizie del giorno il tigidino oggi io scandisco perché ho il cibo qua e quindi non respiro sigla notizia allucinante ragazzi su el divers sta accadendo di nuovo tutti quelli che indossano la cappa che è una cappa che danno gratuita che tra l'altro fa cagare come diciamo monito ricordo di chi ha perso la vita per mavelon creek e che è riuscito sostanzialmente a riconquistarlo ecco chi indossa sta roba qui viene ucciso e buttato fuori dalla partita per quale motivo non lo so i giocatori di di divers sono un po dei sadici bastardi figli di puttana io sono uno di loro quindi sono molto felice di questo fatto sta che fate attenzione ad indossare certi indumenti che possono ricordare la fazione per la quale con la quale stiamo lottando effettivamente ha senso ha senso sappiate che è stato cancellato tempo fa un gioco che doveva essere sul su batman però dell'universo di nolan guardate le immagini che sono state ritornate ritrovamenti antichi guardate che roba è allucinante ci sono c'è la batmobile che è una delle batmobile più brutte che sia mai stata ideata perché veicolo realistico assolutamente è ovvio che una macchina con queste ruote sia in grado di girare si sa poi abbiamo questa scena che sembra un gioco da telltale addirittura ora ovviamente questa roba era per la 360 per l'xbox quindi stiamo parlando di tempo fa però guardate che cazzo di gioco ci siamo persi incredibile sarebbe potuto essere qualcosa di carino forse magari non a livelli di barca di batman asylum però devo dire che nell'universo di nolan ci sta conoscendo più che altro l'unico difetto è che l'armatura di batman questa qui fa schifo però vediamo che benjamin bailey 68 68 che anche l'account verificato su instagram perché ha pagato instagram per farsi l'account verificato dice che è felice che l'hanno con cancellato addirittura grato perché deve devono smettere agli adulti di giocare a questi giochi per bambini un adulto non pagherebbe mai instagram per avere una spunta blu sul suo nome e comunque mi hai ferito stronzo andiamo avanti andiamo avanti con un'altra notizia eccezionale ma è uscito no non è uscito sono qua non sono da nessuna parte altra notizia eccezionale sersi la regina quella che si fa la passeggiata nuda non so se avete mai visto game of thron quella che risponde al nome di hannah wedding mangham che è appunto l'attrice inglese che ha interpretato bla bla dice di essere uscita dal set della scena delle torture con una claustrofobia c'è dopo quella scena lì lei è diventata claustrofobica ora ovviamente i milioni per la quale l'han pagata non potranno mai tappare questo buco emotivo che ha è ovvio è classico però lei adesso la claustrofobia per quella scena dino è uscito no sono qua ragazzi che problemi avete stasera e quindi sostanzialmente lei è claustrofobica altra notizia allucinante è che il braid seno a sacrifice 2 che è il nome alla quale corrisponde il nuovo gioco della ninja theory in esclusiva per xbox che non vedo l'ora di giocare che è stato annunciato pensate come gioco di lancio della xbox serie x e serie s e nonostante ciò sono passati cinque anni di sto cazzo di gioco abbiamo due trailer che sono due cinematiche senza gameplay ci viene detto dai gn che è qualcosa di allucinante is shaping up to be another beautiful nightmare sembra si sta trasformando sembra prendere la forma di un bellissimo ed inquietante nightmare non mi viene la traduzione incubo e mi chiedo solo che cazzo di fine abbia fatto sto gioco cioè io voglio giocarlo e stiamo aspettando ma perché è uscito figa ma basta quindi non lo so sto aspettando che esca ma sto gioco non esce non esce il gioco non io sono qua sti cazzi poi le nuove immagini di mohana sì non la porno star ma lei quella che insomma che noi in italiano in italiano si chiama come si chiama in italiano sta personaggia non me lo ricordo più ma quindi esci tu il gioco adesso me ne vado lascio la sedia vuota di secret lab senza che mi abbiano pagato per fare questa pubblicità vaiana 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 ma che cazzo di nome è vaiana vaiana ma che nome è vaiana ma cosa state ma vaiana l'orcona daxine a l'orcana oceania oceania è il nome del titolo ma lei come si chiama colei che vaiana ma che nome è va ma perché cambiare da moana a vaiana lo so per quale motivo l'hanno cambiato da moana a vaiana ma vaiana fa cagare chiama la bob piuttosto alla faccia un po da bob e questa è boh non lo so le immagini confermano the rock nel prossimo capolavoro con il ritorno di 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 craval di cravalo lì quello lì quello lì che quello lì è un mamma che a ticchino no forse quella era l'altra canzone del non mi ricordo più vabbè ragazzi quello con i muscoli tatuato che fa che fa la parte e the rock ragazzi lo ficca andrà per tutto sinceramente no auli cavallo doppia moana a non doppia the rock vabbè è uscito comunque ragazzi non ce ne frega una beniamata ceppa io ve l'ho messa lì perché so che vi interessa a voi queste cose della disney perché attenzione non è pizza e disney e francamente a me no perché ho smesso di credere in lei da anni ormai da anni detto ciò questa era l'ultima notizia del tigidino adesso iniziamo a giocare restate con noi e godetevi questo staccone questo questa pausa pubblicitaria no non mi interessa di alla disney che non non me ne frega no metti giù chicago in linea un cazzo e quindi sostanzialmente ragazzi è così a un mondo piccolo ma pieno di notizie e beh assolutamente assolutamente sapete che attorno al gioco che sta per uscire stella al blade il gioco di colei nu che è perché sostanzialmente non so se avete presente magari avete visto qualche immagini c'è questa pupazza nuda praticamente c'è non è nuda sembra che c'è la body painting perché è talmente attillato il costume che ha che vabbè ragazzi è nuda sostanzialmente si parla di questo gioco perché fa scalpore assolutamente non per via delle fattezze della personaggia no si parla di questo gioco perché un gioco eccelso spettacolare una pietra miliare dei sols like anche se non è sols più gr assomiglierebbe a baionetta ma non lo è quindi non si parla di certo per il culo della protagonista no 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 per le tette della protagonista che gigolano se viene schiaffeggiata da un mostro di due metri e mezzo che gioco si chiama stellar blade esclusiva per playstation 5 ok forse lo porteremo sul canale per un motivo l'emancipazione femminile ma stellar blade sarebbe un simile sul slide a quanto pare di non mi metto a piangere prego ai dei fazzoletti tempo si dino portalo si sino ma lo portiamo ragazzi lo assolutamente la trama una tizia nuda asiatica decide di smetterla scende giù e tira fuori una spada e un fucile e inizia a combattere contro mostri demoniaci non ha non ha molto non so quale sia la trama ragazzi dovrebbe essere ambientato in un post apocalittico però graficamente è allucinante c'è in realtà il gioco graficamente fa schifo ma la gente è talmente concentrata a guardare il culo della protagonista che il resto non ha notato che è fatto in due pixel a 720 fidatevi se voi andate a vedere il 3 è la classica scena no di social scommetto che non hai visto il gatto di sfondo ma non l'ho visto il gatto di sfondo cristo hai visto cosa hai messo davanti concettualmente quello l'idea del un classico si è anche esatto un classico per tutta la famiglia come giusto che sia no per carità per carità questi acce intanto ricordo che quelli che hanno vinto il coso di waterdrop dovrebbe essere arrivato il pacco di waterdrop mi fa molto piacere detto ciò parliamo del nostro sponsor che non è waterdrop ma è istangaming se vi va di avere i giochi al 90 per cento di sconto come questo shinkansen 0 potreste approfittarne andare sul nostro link di istangaming e trovarlo al 90 per cento di sconto ora non sono sicuro al 100 per cento che ci sia questo gioco però ce ne sono molti altri sicuramente c'è il divers sicuramente c'è il divers e sicuramente potete trovare il divers quindi che state aspettando ragazzi io lo farei fossi voi ma utilizzate il nostro link perché altrimenti guarda allora io direi di salutarvi ed iniziare ma dov'è il link basta che scrivi il comando scriveteli non ce la faccio più ragazzi scriveteli per favore moderatori fate voi scrivete il comando instant gaming tutto attaccato tutto attaccato non vedo che sia non vedo l'ora che sia domani sera ragazzi voglio farvi vedere sto pifero sta pifero di prima puntata pilota che definiamo la puntata pilota di ghost fuckers siamo stra orgogliosi e ovviamente molto sensibili la minima critica potrebbe spezzare in noi la lastra sottile nella quale ci muoviamo immaginatevi come sopra a un lago di ghiaccio e basta veramente un e noi cadiamo giù e ci congeliamo morti così in quest'acqua che è l'acqua che rappresenta un po tutti i nostri timori e non vedo l'ora di mettermi a nudo di mettermi a nudo su questa piattaforma con questo video e sperando poi che venga reactato da più persone possibili in più parti del mondo io voglio che qualcuno brasiliano reacti in brasile la prima puntata dei ghost fatter ghost fuckers ovviamente tradotta in brasiliano perché la faremo poi tradotta da me che la faremo poi in diverse lingue quindi non vedo l'ora ragazzi italiano e brasiliano prime vi saluto streamlabs benvenuto un piacere peppy da sicilia bagnagna grazie mille malex dragon giaco jack giaco jake scusami isabello eccolo lì jc davidic flaming bag il dio del tuono sarah arsters emi abbiamo tummig 91 allucinante andrea cop tv il motivo per cui hardin peppy da sicilia di nuovo basta orecchiette alle cime di rapa ovviamente ale zuppa di manzo leo bar leo barack la zuppa di manzo peter paul pippo 0q dachshin il nostro dachshin alice granwitch karim o karim non so se si dice karim o karim non l'ho mai capito stronzolo è affascinante acelim nha walter white o finalmente un king della droga biagione flaming bag georgia ragazzo pro maya polifemo gabrivio topo tip sailesia fanal guerrilla celtica che ritorna sempre miss ronononoa noa rodin one con l'uno cao il re del caofan caofan che cazzo è non lo so caofan è l'ultimo ma non ultimo che è l'ultimo degli ultimi chi è che stamattina si è accorto di avere una scarpa sola in mezzo alla strada ovviamente e ha concentrato tutta la sua attenzione sulla scarpa mancante senza rendersi conto che non aveva i pantaloni le mutande chi di voi a chi è successo a chi è successo ragazzi dai capita ogni tanto quando si è lì vicino al cancello dell'asilo della scuola del quartiere chi di voi chi di voi eccolo eccolo walter white no basta già già abbiamo un altro destino l'ha fatto per la famiglia ovviamente the only hard tour o bestia c'è un piacere un onore benvenuti alla casa del signore che ovviamente gentilmente occupo perché mi è stato concesso da lui stasera mi è stato concesso a me è successo anche a me è successo ragazzi ovviamente la diffida la diffida ragazzi direi di partire fatemi capire se funziona tutto dopo ci rilassiamo con reaction e puttanate varie avete un pelo qui ecco e sappiate che io mi sono stirato il muscolo pettorale quindi dal capezzolo fino alla scella del lato sinistro mi fa male in realtà è un infarto probabilmente ma me lo sono stirato e quindi respiro a fatica in realtà era l'altra scusa quella di prima ma facciamo finta di niente però intanto devo fare così va in live ci siamo va in live ok eccoci qua e già possiamo notare è la qualità la qualità qui questi geroglifici che vedete queste scritture con i formi che risalgono all'epoca alle albori della 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 storia umana nascondono un testo ossia questo è shinkansen zero diretto a tokyo questo c'è scritto letteralmente questo nuovo gioco impostazioni credits abbandono io direi di fare un nuovo gioco e buttiamoci stai rieviando il gioco no non l'ho mai avviato i file di salvataggio recenti verano cancelli ma non l'ho mai avviato il contenuto dei supporti si può essere si può essere attivati disattivati ma non l'ho ma vabbè sì loading e via ah ci siamo già così madonna mia ipersensibile ma quanto cazzo è sensibile il mouse volume grafica predefinito lingua sensibilità del mouse tiramela giù a 1 e 25 applicare mamma mia sono precisi sono precisi cazzo riprendere mi piace mi piace tutto all'infinito sbagliato strada già domandare eccoci qua eccoci qua eccoci qua posso posso cliccare no non posso fare nulla che succede attenzione vabbè proseguire vado avanti bello che è sta roba minchia gesù buonasera che non so cosa c'è scritto tornare indietro c'è un'anomalia eh tornare indietro se c'è un'anomalia ah e sono io l'anomalia non ho il biglietto quello sono io wow ma che roba incredibile beh già questo è un'anomalia quindi ragazzi carpite ogni singolo con i vostri sguardi con la vostra memoria primitiva da bonobo non perché sia non è un'offesa ragazzi è letteralmente quello che l'umano si è portato dietro dalla catena evolutiva quindi approfittatene con la vostra memoria che avete fresca di studio cercate di identificare questo è un brutto caso di lopecia mamma mia questo è un brutto caso di lopecia cercate di ricordarvi ogni singolo dettaglio guardate quest'uomo lucina verde ha rubato un vestito in italiano lopecia borsetta sì ho detto borsetta per me qualsiasi uomo con una roba del genere è una borsetta dopo tutto non solo non solo al borsetta in generale sono fatto vado di luoghi comuni altra borsetta questa è una borsetta sembra uno di quei bambini che puoi comprare e che puoi che puoi come si chiama adottare vabbè ci siamo non so cosa ci sia scritto 2700 persone tutto uguali con questo aspetto 3850 non ci sono più ma che bello sto dottore sapessi cosa c'è scritto po' di anomalie non le ho viste per adesso però se ci mettiamo così tanto per il primo vagone e fa e questo? cos'è? è per il biglietto? pronto? no credo sia eh no una cabina telefona una normalissima cabina telefonica posso entrare in bagno? no perché come potete vedere al di sotto della cintura non ho niente ugello non ho niente non serve allora vediamo se c'è un'anomalia madonna mi viene l'ansia allora lui è sempre lui mi sembra sempre abbastanza lui no? questo è lo shinkansen zero diretto a tokyo ok questo è sempre la stessa scritta non vedo niente di anomalo adesso se il bambino è attaccato al soffitto mentre con la testa al contrario vomita nella bocca della madre aperta sotto allora lì effettivamente noto che c'è una differenza ma se semplicemente hanno gli occhi un po' più chiusi non me ne accorgo capisci? quindi spero non sia uno di quei giochi dove al millesimo del millime minchia Gesù stavo per tirargli un pugno che stai facendo? saranno cazzi miei bimbo ciao di nuovo matatane anche tuo fratello è venuto a giocare? no sono sempre io o sei sempre tu? sono così eccitato perfetto in caso di incidente i bambini sono i primi a morire sui mezzi del genere arrivederci no sono libera perché mia sorella non si è svegliata ma l'ha drogata tua sorella vuoi che chiamo qualcuno non importa quanto io aspetti ho aspettato così tanto ma non è successo mio fratello giocherà con me la voce quindi ora sono a posto conosci le regole del gioco? non le conosco sono le regole è semplici cose che sono cambiate se c'è tornare indietro facile vero? figa siamo nei commenti che mi scrivete su youtube Dio Bono vuoi finire il gioco? it carrozza del treno 0 fino alla fine della strada e oltre cabina basta azionare i freni in cabina ok quindi se carrozza del treno 0 fino alla fine della strada e oltre cabina basta azionare i freni di cabina ok tiro i freni se vedo un'anomalia ma non devo tornare indietro non ci sono anomalie nella carrozza con servizi igienici? capito? no non ho capito si ho capito sono una di quelle persone che ha paura a dire che non ha capito ci vediamo alla fine allora e andiamo non mi fido di questo piccolo rapper non lo so vado quindi il gioco parte da qui giusto? qui non ci sono anomalie perché questa è la cabina del del dove c'è insomma dove si caca madonna ok devo tornare indietro se c'è qualche anomalia eh ah tra l'altro vediamo se qui cazzo non mi son girato per vedere cosa c'era qui cartellone giallo con eeeh e questo sono tutti i tipi di sfiga che ti può capitare una giornata sola bonsai japan buono la casa viene portata via da un alluvione a quel punto che l'alluvione se ne va prende fuoco per un raggio di sole che è questo qua potete vedere l'uomo al suo interno che in realtà è un ladro e che ti ha derubato scappa via in un'altra casa che viene colpita da delle piogge acide e poi abbiamo un gatto ok direi che mi sembra tutto abbastanza nella norma questo si muove si muoveva anche prima nel dubbio gli tiriamo un mattone in testa così non si muove più e possiamo a quel punto ma ciò che succede in questo vagone succede anche nell'altro o è tipo las vegas ciò che accade a las vegas a las vegas rimane a las vegas allora intanto non c'è il bambino e il treno sta urinando anomalia torno andrei signorina sta bene e mi pare di no quindi devo tornare indietro giusto corri è la madonna oh oh gesù oh santo cielo non faccio in tempo a sfidiare mi dispiace cazzo apri apri l'acqua 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 wow ma come fanno eh i giapponesi sono avanti ragazzi eh ah pensavo fosse tipo Narnia che se riapriva spariva quindi devo tornare indietro di qua non capisco o devo no dovevo tirare il freno giusto non dovevo mica tirare il freno se c'era un'anomalia non mi ricordo più ah c'è il bagno qui ma che bello beh però è incredibile questo qua è il freno no questo è cazzo che diavolo è questo non capisco che mondo è questo fuori so fuori sole fuori sode ah fuori sode fire buono fuori sode tiri il freno se arriva ah se si arriva alla carrozza zero grazie grazie quindi adesso torno indietro semplicemente andando di qua non lo so non ne ho idea il telefono dov'è il telefono boh fatto ma lo torno indietro di qua credo abbia funzionato giusto mi sembrerebbe di si ok si stiamo andando stiamo andando giusti guardiamo cosa c'è scritto lì questo è il shinkansen zero perfetto questo è il shinkansen zero diretto a tokyo concentriamoci sui dettagli quelli diciamo più facili vediamo se la nostra il nostro riflesso è sempre lo stesso parrebbe di si non credo che troveremo troveremo anomalie qui per la legge dei numeri ne abbiamo appena trovata una non credo che ne troveremo due di fila il bambino non c'è più non era un suo problema ma il fatto che non ci sia il bambino è un'anomalia ma deve esserci sempre il bambino guarda anche per terra eh l'ho fatto ho una visione periferica non è che se non guardo esattamente per terra come un deficiente non vedo la terra la valigia è cosa? la borsa vuoi dire il bimbo era il tutorial ah ok meno male che avete già visto questo gameplay da altre persone procediamo avete tradito la mia fiducia sa parlare si sta evolvendo che è? Cristo ha un'età compresa tra i 10 e i 70 anni cos'è sta roba? 24 c'è una monè c'è cosa vuol dire nocorini proseguo tornare indietro se c'è un'anomalia e questo l'abbiamo capito c'è un'applicazione per telefono casomai la tua casa venga presa da una tempesta poi si arena prende fuoco un ladro esce e delle piogge acide decidono di forargli il tetto c'è un'applicazione apposta molto specifico è un paese molto specifico ok sembra tutto nella norma Shinky Zen Zero diretto a Tokyo e fin qua ci siamo quindi il bambino non vi è più perché quello era il tutorial non mi fido questo è sempre in trans la borsa è sempre lì non è non mi sembra non so quanto cos'è costato il progetto di questo treno e il suo funzionamento credo milioni e milioni di soldi pubblici 24 bene quindi direi che ho sbagliato è stato piacere quindi me lo dice lui se sto avanzando con le anomalie dove cazzo era l'anomalie non l'ho vista comunque non so quanto sia costato però il fatto che ci siano solo due passeggeri vuol dire che non sia molto utilizzato ecco sostanzialmente no ragazzi però se le anomalie sono così piccole io già ho perso non mi sembra tutto uguale pronto? non lo so riflesso? che ha il mio riflesso? è il solito sei tu la noma devi guardare il numero ad inizio del vagone eh 24 i pomelli delle poltrone che hanno i pomelli delle poltrone? mi sembra tutto molto simile io potrei fare questa conversazione un po' più là per non disturbare la signorina però sono un rompicoglioni lo faccio qui per terra il numero come per terra il numero? volo 7 solito numero 7 o una L dipende è così veloce che non riesci a prenderlo ah ok prima c'era la tendina abbassata bugiardi bugiardi deve arrivare a zero capito? siamo a 24 vabbè io proseguo vaffanculo forse stavolta l'abbiamo fatta giusta qui di anomalie non ce ne dovrebbero essere quindi questo qua è il numero del treno? sto 24 che cazzo è? rispondimi per favore 24 è il posto al sedere del treno ah ok grazie finalmente qualcuno me l'ha detto buono 6 anomalia no stiamo andando avanti sta andando bene sta andando bene sta andando bene il gatto è sempre strabico mi è rimasta zoomata la visuale lui è sempre uguale il mio riflesso è sempre lo stesso attenzione però il quadratino su questo quarkwood è diverso anomalia torniamo indietro non vedo non vedo differenze non vedo non mi sembra di vedere tendine abbassate né niente ho sentito un suono ma posso avere paura di un gioco del genere è tutto acceso mi spavento mi sto cagando sotto per quale motivo mi sto cagando sotto non sta succedendo nulla ok il suo riflesso riflette la sua borsa borsa a posto nessuna il dottore 30c attenzione no è vero cos'è che c'era scritto sul dottore per terra c'è un numero che si indovini e diminuisce l'ho già capito quello siamo già andati avanti cosa c'è scritto qua c'era scritto 35 dietro di te cosa bugiardi tutto ok 35 ok quindi procediamo vabbè io vado cerchiamo sto posto 24 che magari c'è qualcosa di di particolare sul posto 24 posto 24 dove cazzo è il posto 24 questo è il 20 il mio riflesso riflette buono mi sembra tutto ok lui è sempre perennemente composto il posto 24 non c'è se arriva fino al 20 è tutta una bugia 5 ci siamo questo è lo shinkan kenzen 0 quindi ci siamo di Tokyo scritto giusto Tokyo sto guardando anche per terra per vedere se c'è qualcosa di diverso ragazzi però non mi sembra di vedere nulla francamente ho paura perché lo so che una certa mi troverò comodo? eh lo so non tutti hanno i soldi per viaggiare in prima classe però mi sembra esagerato effettivamente accontentarsi cioè in questo caso uno può anche chiudere un occhio e dire vabbè il mio posto posso anche non andare proprio al mio posto tutti gli altri sono liberi no lui doveva stare qui allora torno indietro a sto punto ehi è importante che tu sia comodo ma l'altra parte del resto del corpo dov'è? hai proprio acquartocciato lì così che schifo che schifo non se si alza ed è alto tre metri io vaffanculo vaffanculo quattro sto andando alla grande sto andando alla grande ok 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 lui è sempre uguale ah c'è stato un movimento del capo particolare bisognerebbe giustiziarlo non so se si può un bagno ho notato che è occupato ma non ce ne frega niente nella zona centrale dove ci sono i bagni quello che viene definito il treno cacatoio lì le anomalie non ci sono sono sempre sempre uguale l'ha detto prima il bimbo ma magari è una bugia una becera bugia non lo so ma siamo scusami ma ci sono sette treni no si è già al 4 abbiamo già vinto tutto a posto la borsa è sempre lì non ci sono teste o robe nascoste per adesso 35 ok allora io vado ho vinto il bimbo era dietro non è vero ah 23 stavolta perché sta cambiando il mio biglietto che tra l'altro non ho sono un criminale 3 ok sta andando sta andando sta andando forte qui tutto uguale il gatto è lo stesso questo è lo shinkesen 0 di diretto a Tokyo ok buono procediamo vagone per vagone ho il 23 stavolta eh ma ripeto si arriva sempre al 20 beh questo potrebbe essere un chiaro indizio che tutto ciò è un sogno eh signore sembra uguale stiamo per avere un infarto il mio rifletto il mio rifletto il mio riflesso è sempre lì perfetto direi stiamo per avere un infarto di quelli è succulente è succulenta la cosa ma che cazzo no 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 non è il mio posto vero io lì non mi ci siedo non riesco a vederla per un attimo ma dio mio ma cos'è sta cosa guarda ma è bellissimo tutto ciò ma è bellissimo ti fissa Dino e l'ho visto via 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 perché adesso mi insegue madonna corri ah ok ok vabbè però per adesso devo essere sincero me lo aspettavo più difficile cioè le differenze sono grosse si notano c'è il rischio di finirlo in poco tempo pensavo durasse di più il gioco allora manca la luce no è sempre uguale ma c'è qualcosa di diverso mi sa che manca una luce ho sbaglio siamo al 2 buono 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 mi sembra mi sa che ci sia qualcosa di diverso no vabbè e lui è sempre qua sotto non ha nessuno di particolare direi che stiamo andando alla grande direi che stiamo andando alla grande quindi poi alla fine devo tirare il treno il freno mi sembra una follia sta cosa considerando che questo treno viaggia a 300 fino a 300 400 km orari lei è sempre stordita 35 mi sembra tutto a posto ragazzi buono allora io vado eh allora io vado eccoci qua raga che è successo niente che è successo 22 Italo trenitalia nell'uno nell'altro no ho sbagliato Dino fai il verso di un dinosauro ti prego buono adesso mi alzo corro da mio padre a dirgli eccomi guarda sono una puttana dell'internet la gente mi chiede qualcosa e io lo faccio il 22 è il numero di anomalie ah era buio com'era buio no ragazzi avevo ragione porco 2 siamo ritornati al 7 avevo ragione c'era un'anomalia era buio Dino 22 sono le anomalie che devi vedere ah ok quindi quando le vedo mi chiama tutto da capo no ma però vedi che è così ma però ma minchia ma non finisco più così ce l'avevo quasi fatta ce l'avevo quasi fatta e lei è uno stronzo che non mi dice mai niente ma figa quindi si è ritornati riparte tutto da zero buono buono nessun nessun uomo sedile lei è sempre lì qua mi sembra tutto regolare a posto? mi sento un po' un controllore anche qua eh c'era un numero in rosso dei numeri cos' no no aspetta come c'era un numero rosso dei numeri ma non vi ascolto più ma non vi credo più credo ci sia qualcosa di diverso ma quanto è alto? ma lei era il tizio e lei è il tizio che stava sotto il ai mocassini tutto ciò è incredibile comunque ma è micidiale ma lei come cazzo fa? ha dei bicipiti femorali con una forza eccelsa l'elasticità che hanno gli asiatici questo perché pensate dedicano un'ora al giorno all'allenamento fisico tutti i giorni dal momento in cui nascono al momento in cui muoiono Dino attento ai finestrini e sono tutti ma non è ma non vedi che non è questo il problema ti sembrano i finestrini il problema in questo momento? allora io vado eh a posto eh no cori me ne sono accorto sei e fin qua ci siamo tutto abbastanza nella norma continuiamo mi sembrano anomalie vabbè se sono così la differenza la noto mi fa l'occhiolino che schifo ma sono da un lato poi ma che schifo io non vado avanti no 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 si 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 5 sto vincendo ragazzi avete visto che occhio che ho avuto? ok ok io non riesco a capire quindi lui questo qua è l'uomo alto 2 metri non sembrerebbe da seduto allora se c'è una cosa che mi inquieta sono quelle figure umanoidi antropomorfe dal collo lungo e la testa distaccata ci sono diversi demoni giapponesi che so che sono fatti così quindi io mi porto un paio di forbici che non si sa mai che tipo palloncino le sdradico dalla realtà e lascio che il filo che mi stavo dicendo dove è finita ok eccola qui no mi sembra tutto nella norma ragazzi 35 il dottore è sempre lì buono ecco è tutto a posto è tutto a posto è tutto a posto tutto a posto la borsa la borsa che è là la borsa ragazzi ma volete allarmarmi per non farmi andare avanti non è lui che è alto sei tu che sei basso ho vinto dino no oh cristo c'era un'anomalia no ma allora ma allora buono guardiamo per terra mi raccomando se non è da un lato potrebbe essere dall'altro il tizio quello diciamo accartocciato mi sembra tutto quanto a posto il completo è sempre quello questi giochi avranno una fine una certa passerà a sta moda si renderanno conto che sono noiosi e si andrà avanti con la nostra vita non mi sembra che ci siano differenze mi devi dare più anomalie perché in un gioco di anomalie se non mi dai le anomalie le anomalie sono io che l'ho comprato non hai capito qual è il problema devi darmi di più devi darmi di più mi dia di più no non mi fraintenda signorina cosa piedi basta ci sono delle anomalie it's dark dino controlla sopra buono non penso dino sopra di te buono il colore delle cose dino e che ho che ha a me sembra tutto uguale ragazzi francamente era senza scarpe lei figa ragazzi voi siete senza occhiali a sto punto dino in alto cosa vabbè non vi ascolto più questo è scritto Tokyo reserved post ho vinto okuri che numero sempre 20 ho sbagliato devo ricominciare da capo non c'era alcuna anomalia è una bugia è una bugia non c'era alcuna anomalia era tutto quanto uguale a prima era tutto quanto uguale a prima no dino gli occhi torna dino il riflesso ma non non ricominciamo da capo non la finiremo mai staserata riflesso ok colori cazzo pensavo fosse una testa ci sono colori sono nella norma meno che mi venga una sincope e è qualcosa che ha vabbè l'ho sgamato abbiamo sgamato l'anomalia 6 ci risiamo ci risiamo allora dobbiamo fare attenzione a tutti quanti ma perché lagga così sto gioco dobbiamo fare attenzione a tutti quanti i dettagli possibili ragazzi oh no e beh ma scusami il fatto che che abbia cambiato posizione poverino non aveva più la circolazione alle braccia e alle gambe non vuol dire che sia un'anomalia vuol dire che è umano che respira che finalmente si è svegliato è un'anomalia torniamo indietro ma che anomalia è ma scusate vabbè mi dispiace la gente non si fida di te quindi quando si supera il 10 si dice ora lo so 5 eccoci qua me lo sentivo che sto gatto di merda aveva qualcosa che puzzava ma guardate che roba me lo sentivo tantissimo che una certa avrei visto questa scena qui me lo sentivo dentro proprio torniamo indietro mi sembra mi sembra mi sembra stupito vabbè e ne ho chiudere a lei la porta la chiuda grazie buono abbiamo sgamato subito l'anomalia sto andando forte ho ritornato come prima è più brutto però prima era più espressivo qua è cambiato qualcosa mi sa che qua è cambiato qualcosa non lo so non ne ho idea forse la borsa è diversa ok lui se la sta ronfando se ti muovi ancora una volta veramente non c'è niente sui finestrini mi sembra ma che è ma che è quella roba lì cos'è ma che è ma è un'altra persona cartocciata ma è una fissa questa qui mio dio vabbè andiamocene per l'amor del cielo mia madre ogni tanto mi minacciava così se non la smetti ti piego come un paio di pantaloni le scritte Dino ma c'è una persona piegata a metà nel reparto delle borse delle scritte me ne sbatto le palle capisci non è quello il problema non sono le scritte c'è un corpo umano che non può piegarsi più di tot gradi ed è stato piegato e compresso le scritte le scritte 残i 17 17 3 sto vincendo ok ok c'è qualcosa di diverso il sapore il sapore il sapore è diverso non vedo non vedo differenze ragazzi mi chiamo posso girare angolo per angolo perché altrimenti mi perdo beh però se le anomalie sono come prima che era invisibile c'è stiamo arrivando verso la fine siamo a tre qualcosa 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 ho flicherato per un istante mi sembra che non ci sia un'anomalia in questo momento però non ne sono sicuro perché poi vado avanti no mi sembra tutto uguale diretto a Tokyo i pomelli non hanno gli occhi la signorina non ha i pomelli buono qui ci sono qui c'è la borsa è tutto è tutto ok è tutto ok il dottore 35 tossisca questo quando ti stringono i conglioni 35 tossisca non mi sembra tutto uguale le gambe della donna ti ho sgamato ti ho sgama quasi me la faceva ti ho sgamato ora ammetto che effettivamente ho spruzzato come le seppie ma l'ho sgamato all'ultimo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta meno male ragazzi meno male che mi sono voltato buono ci siamo ci siamo comunque ragazzi dovessimo finirlo poi ci buttiamo su itcio e facciamo qualche giochino su itcio va bene un piano b c'è sempre altro giochi horror ovviamente mi sembra tutto ok mi sembra tutto ok allora devo dire che è carino il problema è che secondo me è poco horror cioè forse è il primo cioè è disturbante sì ma è il primo gioco della chill as art che non mi non mi intriga parecchio più che altro noi in realtà io in realtà nella lista desideri di steam ne ho altri cinque di giochi della chill as art alcuni veramente di nicchia dove vado corri ma perché non mi sto zitto goku uno fermi ecco adesso qua è incredibilmente luminoso o sono io cioè per dire qui è incredibilmente luminoso le scritte figa ci risiamo erano le scritte il problema stavo andando velocissimo dicevo comunque ho altri giochi della chill as art quindi al massimo potremmo giocare a quelli questo non fa paura cheat ma è horror classiche domande però un po' di terrore l'ho avuto è recondito proprio mi sentivo in autostrada ok la signorina è qua il tizio non c'è definiamolo il maniaco ragazzi è l'ultima avete visto un'anomalia la borsa è là per sicurezza dato che è l'ultima non voglio far cagate vediamo se sotto i sedili c'è qualcos'altro però non mi pare ma c'è l'unica roba è questa luce qua che mi sembra un po' strana però non so se è un'anomalia non credo magari è semplicemente un effetto forse c'è una luce in più non dovrebbe avere le scarpe bianche che scarpe c'è non sono troppo attaccati i sedili no a me disturba il fatto che siano tre e due sta cosa mi dà mi dà fastidio non vedo neanche occhi dietro il riflesso dei cosi quindi a posto il tipo non ha le scarpe bianche no le scarpe nere le ha sempre avute nere guarda in alto è tutto e vedi però che c'è sta luce strana strana qui cazzo va che roba mi sa che un effetto grafico vedi perché poi poi si rimette a posto controlla i cartelli è tutto uguale ragazzi è tutto è tutto identico no mi sa che non ci sono anomalie ci siamo è l'ultimo vagone è fatta ho vinto è tutto uguale ragazzi è tutto uguale ma non credo che la luce credo che la luce sia c'è un artefatto del è un artefatto del fatto che era fatto lo sviluppatore non è ottimizzato bene non penso sia la luce perché vedete qua non lo fa lì lo fa è diverso ti prego non farmi ricominciare da capo per favore non farmi ricominciare da capo attenzione attenzione zero sì ok ci siamo questo è lo shinkansen zero di retto a tokyo ok tutto uguale c'è altre scritte no reserved buono ecco l'anomalia è che sia scritto in italiano e non in giapponese su un vagone giapponese su un treno in giappone l'avviso quello è strano lui mi sembra sempre uguale per terra non vedo differenze i pomelli non hanno gli occhi buono qui il soffitto è tutto uguale le scritte pure certo quell'istintore che abbiamo visto prima non era a norma era targato era ormai in scadenza non era più stato controllato ma ti cazzi non è questo il nostro problema certo effettivamente non ci hanno neanche servito da mangiare sono quattro ore che siamo qui e non è ancora passato il carrella signora col carrellino con la classica proverbiale frase qualcosa del carrello caro non è passata lei è sempre qui l'uomo sedile non esiste ragazzi forse ci siamo no però che non ci sia un'anomalia qua mi sembra strano eh mi sembra veramente strano all'ultimo non c'è l'anomalia non lo so non lo so non ci credo ho vinto? dite che ce l'ho fatta? non mi sembra che ci siano differenze diretto a Tokyo ah il wifi è gratis e beh ci sta dottore non ha la punta del naso sì è la vale che parla ragazzi è di là che sta studiando la ragazza la ragazza e i suoi piedi i suoi piedi e la ragazza ancora ma siete fissati i ragazzi cioè io ve li faccio mostrare tranquillamente il 35 è rosso grazie Dax io proseguo eh io vado eh basta con questi piedi ma è che vuoi da me? io sto andando eh boom abbiamo sbagliato ma quale anomalie ma vedi che sono fatti questi giochi qua sono una merda sono una merda no fermi zitti 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 è bellissimo è bellissimo ma scusami non doveva finire a z io non dovevo tirare il freno non dovevo tirare il freno io questo è l'ultimo? ma non ha senso ok è tutto uguale che spavento che spavento che ho avuto vabbè in realtà non serve neanche che controlli l'anomale porca puttana il freno il freno tira il freno spavento che è successo? minchia grazie mille per aver preso ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto? collisione sui binari il treno si fermerà un po' per verificare la sicurezza come collisione sui binari? sono stato io? attenzione dio non è prevista la ripresa del progetto ma è stato il gioco? che succede? ma che succede? e basta si ricomincia guardalo qui che stai facendo? sta tirando di cocco ok eccoci qua hai qualcosa da dire? Kenny san tuoi fratello è sugoi ce l'hai fatta si muove di fretta cos'è che non va in giro? hai per caso pensato che questa fosse la cabina dell'autista? no no è il bagno mi prendi in giro? quanto è potente il risucchio del cesso in un treno o in un proiettile? perché a sto punto gli metto la testa nel water da retiro lo sciacquone sapete cosa c'è sullo sch... sapete? come fa? stavo parlando attenzione città del voi cosa c'è sul sincasen? la carrozza della prima classe ah sai sei mio fratello eh sì è un bro dov'è la cabina? cioè è appena oltre la carrozza della prima classe non so hai detto che sono vicino alla carrozza del treno zero? non sto dicendo nulla io per treno zero intendi la carrozza del treno zero di prima classe zero? beh forse mi sono spiegato male no no assolutamente ok ora il contrario di prima disposto ad andare avanti con qualcosa di diverso ah stavolta dobbiamo andare avanti se qualcosa è differente se non c'è si torna indietro fai attenzione perché se sbagli tre volte arriveranno i fantasmi oh mio dio signore sa sa dov'è la carta igienica? non so perché siamo qui non pensi che sia strano? non importa facciamo il gioco per ora ci vediamo dopo allora ma stiamo scherzando questo ma cosa sta succedendo? quindi adesso dobbiamo andare avanti se c'è un'anomalia è bello allora non è finito vedi? mi ritrovai qui in un treno proiettile chiuso nel bagno con un bambino la nostra storia inizia così e beh allora però stavolta questa è la prima classe giusto? questa è la shinkansen 0 mi sembra a diretto a Tokyo vedete? caratteristico colore marrone che ci distingue ci fa capire della prima classe non si vede una ok signorina al computer ricordiamocela che tra l'altro signorina non so se se ne accorta ma è sul desktop per nulla eccoci qua allora oh faiutatemi cioè non mi ha neanche non mi ha neanche calcolato sei bloccata allora le cose sono due o ho dei sensi di colpo o sei innamorata di me ma scusa eh ma posso fare qualcosa? buon dio eeeh il cibo sembra cibo ok ecco questo è il punto più terrificante della nostra esperienza no seeeh no scusatemi ma dite che è un'anomalia ma io fate questo se io non sono mai stato qua dentro questa è la prima è la prima volta che entro nella carrozza della 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 prima classe come faccio a capire se questa è un'anomalia? potrebbe essere una persona con un occhio di vetro luminescente è tutto normale eh mi sembrerebbe di sì oddio se parte la musica di Death Note no però ci arriva signore? ma questo qua è ma questo qua è il tizio di Toy Story quello che ruba Woody e che lo deve rivendere è lui è uguale giocattoli di Hal che faccio? vabbè io torno indietro ma non posso tornare indietro c'è la tizia sei tu da anziano? minchia che bella grazie mille lei è una regina va che corona no vai avanti indietro no no avanti? ah no è vero l'anomalia devo andare avanti giusto 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 scusatemi stavo già eh vedi avevo già fallito completamente proseguo buono ora cerchiamo di capire attenzione però questo è tutto diverso qui e allora forse qua le anomalie sono anche in questo vagone non posso fare tipo questa e sparta appena ci fermiamo si aprono le porte no? ma non perché lo detesti o perché semplicemente me voglio sfogarmi semplicemente perché posso buono mi sembra tutto quanto abbastanza nella norma direi allora eh lei è sempre qua occupata buono sta cercando di disinstallare l'antivirus allora venga la luce signorina perché qua non riesco a capire se ci sono delle differenze ok passi pure non vedo niente nel carrello prego grazie gentilissimo vaffanculo ok qua vediamo se questo c'è ancora l'occhio bionico eh ragazzi allora non è un'anomalia vedete non capisco se questa è un'anomalia o no boh non è non è mica normale una persona che possiede l'iride iridescente come un cazzo di gatto scusami cioè non è normale e che sia un veneratore della notte guarda delle tenebre il riflesso la tipa al pc il tipa al pc cos'è che è? la tipa al pc di cosa ragazzi è un'anomalia che disturbo che disturbo che disturbo che disturbo vabbè anomalia c'è non c'è più il vecchio perfetto che poi non c'è più il vecchio è il vero finale segreto di app ma non ditelo in giro sei Dino vai avanti sto facendo sto facendo Dino le scritte Dino vai avanti minchia no adesso sono disturbo io ve l'ho detto prima o poi avrei trovato qualcosa nel riflesso lo sapevo io qua nel buio ci fregheranno allora signorina venga di qua di nuovo facciamo farla ronda quella roba c'è ma hanno le telecamere che ti sbirciano vabbè giustamente il Giappone è uno dei luoghi più sicuri della terra ok mi sembra il cibo mi sembra sempre lo stesso la signorina non ha una coda ha un problema di postura paresemente delle ginocchia fragili questo ha l'occhio bionico beh questa è nuova ha una figlia adesso hai visto? incredibile è Peter Griffin nella scena del tumore è il mio tumor è il mio tumor è il mio sì sì il mini me penso sia un'anomalia beh tanto ormai di anomalia la stiamo vedendo in continuazione non c'è un momento in cui non c'è un'anomalia in sto cazzo di vagone quindi vabbè io proseguo che devo fare? all'anomalia vai avanti e andiamo avanti e andiamo avanti non ho neanche visto questi cartelloni sono sempre gli stessi ok il vecchietto non vi è qui è occupato effettivamente questo bagno non lo posso aprire questo bagno sì però esatto ma quindi questo che cazzo non è il bagno no cos'è? è il bagno di coppia quanti bagni ci sono? 残i 25 25 bene tutto quanto abbastanza semplice 5 ci stiamo avvicinando? sì ci stiamo avvicinando diamoci ma t'ho visto cretino t'ho visto niente riflesso strano no ehi là dove è andato? no ma perché si muovono adesso? non è buono non è buono se si gira di botto i donna testa oh Cristo dietro di me no no io sto guardando i riflessi degli occhi verdi l'ho visto mentre stavo guardando la ti andiamocene piano 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 se sbaglio tre volte arrivano i fantasmi non sto sbagliando 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 che cazzo? non sto sbagliando non sto sbagliando 24, sto andando alla grande Sto andando alla grande Ok Ok Diretto a Tokyo, tutto quanto uguale Tokyo zero? Zero Tokyo zero Tokyo zero C'è qualcosa di diverso C'è già qualcosa di diverso Però è meglio, se è diverso devo andare avanti Mi sa che qua non è cambiato un cazzo Esatto Perché questo punto è illuminato? È un'anomalia Questo punto non è mai stato illuminato Salve Ho sbaglio Il carrello non c'è? Ah E allora? E niente, non si mangia ragazzi Vabbè, a posto, altra anomalia Vabbè, ma è mica meno male che ve ne siete accorti voi Perché io francamente Non ci stavo proprio pensando La tipa non c'è Incredibile Tutti si sono preoccupati per il carrello Giustamente Tu, anima buona e pia La tipa Rispetti la vita Manca il carrello e la tipa Attenzione I social servono a questo ragazzi Cercare di Siamo nel vagone floreale, vedo Buono Mi devo sposare? Che sta succedendo? Ancora? Ehi, fratello Pensi che ce la faremo a tornare vivi? No, mi stai preoccupando Perché? Non lo so Pensa a tua sorella È proprio una classica risposta italiana Cosa gli dico ragazzi? Non lo so o pensa a tua sorella? Tre Giumanci Sorella Pensa a tua sorella Ma perché devo Fatti i cazzi tuoi sarebbe Sorella Pensa a tua sorella Sorella L'ho fatto arrabbiare? Ehi Non lo so A quanto pare non serve avere una risposta Non sembra servire rispondergli in un modo o nell'altro Mi è andato in bocca un ramo Vabbè ragazzi, l'anomalia c'è È palese È palese Tesoro, c'è cresciuto un treno in giardino Ah, mi è Minchia Avete sentito? Quella era l'anca Mi è scorchiata l'anca Non è vero, ho scoraggiato No, no, era l'anca Ve lo giuro Treno green Alla faccia 22 Ci siamo, ci siamo Eccoci Eccoci Si ricomincia con l'incubo Mi piaceva quel vagone di prima comunque Mi piaceva Signorina a posto Il suo riflesso uguale Cioè, lei non è a posto Perché ripeto, continua a fissare Uno schermo vuoto Una schermata blu La donna del carrello È sempre lei Non mi sembra di vedere anomalie di forma All'interno del carrello Ci sta una testa che sbuca Hanno perso l'occasione Il copino non è quello di Voldemort Quindi bene Ottimo così Qui mi sembra tutto quanto a posto Mi sa che dobbiamo tornare indietro ragazzi Perché non ci sono anomalie Questa non è un'anomalia Lui è fatto così È un diverso fatto così Quindi dobbiamo Sostanzialmente Imparare questa cosa Non posso sbagliare Perché alla terza che sbaglio Sono fregato Dobbiamo tornare indietro ragazzi Non ci sono anomalie Non mi pare di vedere anomalie Giusto? Il vecchio? Ha i capelli adesso? No è tutto uguale È tutto uguale ragazzi È tutto uguale Non cambia niente La roba sui sedili La roba quale? I riflessi sono uguali Sì A posto Controlla bene tutti i finestrini È tutto uguale ragazzi Li ho già controllati A me bastano veramente due millisecondi Oddio C'è questo sedile qua Ancora acceso Non so se a questo punto Deve essere acceso o meno Dino la cameriera ti guardava? Eh lo so Capita sempre La luce normale sul sedile Ah ok Sapete che non me ne ero Non me ne ero proprio accorto Boom A posto Abbiamo fatto Abbiamo fatto tutto Era già successo Torna indietro Dino Va bene Ma Mi è toccato il culo Signorina Non riesci neanche a contenere le emozioni Ha leggermente mosso la mano Avete visto? Lo rifaremo A più tardi Buono Voglio vedere i fantasmi Io no Attenzione È un successo Sto andando forte Ok Diretto a Tokyo Ok Ma c'è scritto Shinka Zen Zero Sì Ok Non vedo differenze Di sorta Non riesco a camminare Perché? Che cazzo succede? Ragazzi È come se il personaggio Fosse pesante Che cazzo Sta succedendo? Eh Oddio No 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 Devo andare avanti Non devo andare indietro Devo andare avanti Corri Corri Oh santo cielo Dai Dai che ce la fai Dai che ce la fai Corri E sappiamo No no corri 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 No da capo? Da capo per sta stronzata? No ragazzi No dai No dai Che bastardi Ma figa E quindi ho sbagliato Ho fatto un errore Eh anomalia Boh C'è il riflesso A posto A me basta questo Arrivederci No ragazzi Non ci posso credere Quindi adesso che ho fatto Sto errore qua Se ne faccio altri due Arrivano i fantasmi Perfetto 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 Sei Non toliamo tutto Nessun riflesso Niente di particolare Mi sembra tutto quanto Abbastanza nella norma Ma c'è All'ultimo ho sbagliato Ma vi rendete conto? Io sentivo i piedi pesanti Ma non capivo Che cazzo fosse dovuto Non ha la doppia testa La signora Non vedo niente di diverso Buono Non mi ha toccato stavolta Mi sento un po' offeso Non mi sento apprezzato Qua non c'è niente 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 Il signore è continuamente infissa A guardare il soffitto Mi sa che di anomalie Non ne abbiamo ragazzi Devo tornare indietro Proseguo La tizia al pc E la tizia al pc Sempre solita Con le sue tre bellissime icone Ossia Scusi eh Non per farmi cazzo Computer Cestino e Boh Il riflesso è sempre lo stesso Quindi a posto ragazzi Vado Non controllo neanche Perché sono sicuro Il cento per cento Di aver vinto A posto Visto Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Cinque Stiamo andando avanti Stiamo andando alla grande Devo essere un po' più celere Ragazzi Perché siamo il 47 E ancora il gioco Non Cioè sembra essere molto lungo Non ho intenzione Di rigiocare a questo Shinkansen Questo io non so Che cazzo di problemi abbia Però è anche vero Che la cultura popolare giapponese Richiede un certo tipo di Diciamo di sfoggio Della propria persona Potrebbe essere una lente a contatto Esistono delle lenti a contatto In grado di fare questo ragazzi? No non credo Magari si eh Non fa male la cornea Un intruso è salito sul treno Che vuol dire? È qui No Apri No Apri Guarda giù Vaffanculo Vaffanculo Però Questo c'era prima Baggage area C'era prima? C'era l'aria e bagagli Sì Minchia mai più ragazzi Mai più Dov'è la signorina? È sparita Eccola Riflesso Uguale Questa è a posto Si è spento qualcosa Non mi piace lei Non me la racconta giusta ragazzi Questo gioco non è molto horror Cheat No non è molto Madonna Santa Qualcuno è di buon umore Ok 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 Se la sghignazza Vabbè Abbiamo un'anomalia Il suo Il suo Smagliante sorriso Quindi possiamo procedere tranquillamente senza neanche preoccuparci E abbiamo vinto Nizu Eccoci qua Anche questo L'abbiamo già fatto Volendo possiamo parlare col ciccio un'altra volta Sempre che sia Eh questo è un dettaglio carino Al posto della tizia ci sono i fiori Vabbè ma i palesi che noi in preda a qualche raptus Ma non c'è più il bambino? Ah eccolo qui In preda a qualche raptus abbiamo tirato il freno Perché tutto questo è nella nostra testa E abbiamo ucciso tutte le persone presenti sul freno Non me ne frega Procediamo Eccoci qua Eccoci qua Diciannove Die Buono Buono Ragazzi è decisivo Altri tre vagoni Ed è fatta Dovete scovare le differenze Ora spero di non affogare nel pavimento come prima Qui è tutto uguale Mi sembra abbastanza normale Non so più cos'è vero Cos'è sia falso Si muova signora Si muova Si faccia anche dare un'occhiata Ecco insomma Mi sembra tutto quanto normale Tu? Tutto a posto? Non capisco cosa tu sia Marilyn Manson Un uomo Una donna Non si capisce Non si capisce Cosa cazzo si Non credo ci siano anomalie ragazzi qua Mi sembra tutto normale Cioè no Non è tutto normale Siamo in Giappone Quindi Però ci siamo capiti Torna Andrea L'altra è sporca Come ti permetti È un cyborg Questa mi sembra tutto a posto Arrivederci L'ha rifatto di nuovo Quanto pare Mi gusta Uno Fermo Mamma mia Che professionalità Che professionalità Non vedo riflessi Cioè non vedo stranezze nei riflessi Ok Sto cercando di lasciare un po' ragazzi Perché il tempo a nostra disposizione sta finendo Lei è una dattilografa Guarda è incredibile Riesce bene a schiacciare quattro tasti Sempre gli stessi all'ora Professionale Vediamo se c'è qualcosa Mi scusi eh Non vedo assolutamente niente di strano No No Ok Mi sa che Ragazzi mi sa che anche qua non abbiamo anomalie Mi sa che anche qua non abbiamo anomalie No cazzo Adesso inizio No magari verso la fine ci sarà qualcosa di particolare Dai Tipo lui roti alla testa all'indietro Il polso inizia a far così Che cazzo ne so Qualcosa Qualcosa di strano me lo devi mettere No Nessuna anomalia ragazzi Torniamo indietro Va bene Ti ha fatto il dito medio? Chi? La signorina? Non è possibile È infatuata di me La valigia non era nera Ma perché c'è una valigia? Quella lì Eh È di che colore è? È nero quella Il tizio bionico Non aveva lo smalto nero Dino? No Mai avuto lo smalto ragazzi So che va di moda Ma adesso Non è una cosa che farò Non è una cosa Con la quale sono d'accordo Un vero uomo Non dovrebbe mai avere lo smalto Dovrebbe indossarlo e basta No sto scherzando Un vero uomo dovrebbe berlo Lo smalto No era nero Non so di cosa stiamo parlando Lo dicono tutti Allo smalto Ma chi ha lo smalto? Eh Anomalia bastarda L'avete visto il tizio? Che pezzo di merda Anomalia Bastardi schifosi Volevano fregarmi all'ultimo Non ero uscito Nello stronzetto Eh Questa è la subdola Quindi adesso Dobbiamo fare attenzione Quando torniamo Dobbiamo girarci Per vedere se è cambiato qualcosa Questa è bastardissima Sta cosa No comunque ragazzi Lo smalto nero Il tizio l'ha sempre avuto Ma non vedete come cazzo è conciato Secondo me non è uno Che indossa lo smalto nero Cioè è palese Ah No 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 Cosa li hanno fatto? Ha sempre avuto lo smalto nero ragazzi Scusatemi però un attimo Bene Bene Anomalia Non spamma per favore Spammate duro Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ok 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 No Tutto uguale Nessuno sotto le sedie Sotto i sedili La signorina è sempre lei Aspetta che faccio la cagata di girarmi No Non c'è niente di Di strano Gli occhi? A posto? Sembrerebbe a posto Mi sa che Non abbiamo anomalie qui La luce flickera Ma è da tutto normale Non ha mai funzionato In questo punto Doppia testa? Smato rosso? Sorriso? No? È tutto ok? Non vedo differenze Sapete chi non cambia mai? Sto qua Il vecchietto E sta cosa mi puzza Perché Se uno non è abituato All'anomalia Non è che nascondi qualcosa Là davanti No Non ci sono anomalie ragazzi Devo tornare indietro È tutto È tutto È tutto È tutto a posto Qui devi andare avanti Come no Dino? Ma qui devo andare indietro Se c'è un'anomalia Devo andare avanti Controlla bene No devo andare Se c'è un'anomalia Devo andare avanti Che cazzo dite? Hai controllato il carrello? No 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 ma non credo cambi nulla Del carrello Signorina è sempre posto Con gli occhi? Sì Questa è la fine Gli occhi della tipa seduta Ma quando mai Gli abbiamo visto Gli occhi della tipa seduta? Cosa c'ha gli occhi della tipa? È asiatica Adesso ragazzi Per l'amor del cielo Posso capire Che ci siano differenze Nell'espressione Nel volto Che possano Se non abituati Magari un attimino stranire Ma è semplicemente Di un'altra etnia Non è che Oh mio Dio Ha gli occhi diversi È che cazzo Vabbè io torno indietro Perché non posso passare? Perché non posso passare? Ma non posso tornare indietro Ma non vale E allora devo andare per forza avanti Ma che senso ha? Ma quindi devo sbagliare Perché ho finito? Ah Cioè nell'ultima cabina Non c'è l'anomalia Ok E quindi? Ma è proprio sfasata La luce di sto gioco Comunque Posso uscire? Sì E quindi? Che ho fatto? Ending 1 Cioè ci sono più finali Credit song Ma non c'è stata alcuna canzone La faccio io Cioè ci sono più 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 Cosa? Quale musica c'è? Scusatemi C'è? 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 Tieni premuto il tasto spazio Per saltare A posto? Basta? C'è pure la modalità facile Che siamo? Stronzi? Buong ragazzi L'abbiamo finito Allora in realtà ci sono altri due finali Posso essere sincero? Mi ha deluso tantissimo Cioè da quelli di Chilas Art Sì mi aspetto qualcosa di particolare Però loro ci hanno sempre fatto cagare sotto bene Qui non è successo nulla Ti stranisce un po' Ci sono cose strane Però non mi è piaciuto tantissimo Ma il bimbo? Eh boh E che cazzo ne so Allora vi faccio vedere gli altri giochi della Chilas Art Quindi voi di TikTok Se volete passate qua su Twitch Che vi abbraccio Vi abbraccio tutti uno per uno Ma vi faccio vedere Selezioniamo il prossimo gioco della Chilas Art da portare Perché ne ho messo un bel po' nella lista desideri Ce ne sono tanti Quindi vi aspetto di qua Va bene Adesso chiudo di qua Grazie mille ovviamente per aver partecipato alla live ragazzi È stato un piacere e un onore Se volete lunedì abbiamo l'altra horror Ma voi siate No domani c'è l'altra horror night Siateci perché c'è anche la prima puntata dei Ghostfuckers Solo però su Twitch ragazzi Perché è un contenuto che su TikTok non possiamo far vedere Siamo noi che esploriamo questo luogo abbandonato In cerca dei fantasmi Dal vivo proprio ci siamo andati lì Quindi venite perché vedrete una delle cose più belle Che i vostri occhi possono vedere Mi raccomando eh Mi raccomando Allora fammi chiudere qua Fammi chiudere qua Ok Termina A posto Oh E con un click ragazzi Ho spento TikTok Cioè non è che dici È uscito dalla live No Ho spento TikTok Perfetto Finiamo di qua Ripeto Non è che mi abbia fatto impazzire Mi sarei aspettato di più Fatemi Fatemi vedere gli altri giochini Allora Chill as Art Qua Qua Qui Abbiamo Diversi titoli Questi sono molto vecchi Del 2018 Welcome back daddy Ste cagate qua Questi lasciamo lì fuori Tra l'altro guardate Questo è stato il primo gioco Che ha fatto con recensione Per lo più negativa Incredibile Io ho messo nella lista desideri Questo che è Stigmatized property E Kidnap parasocial Eccolo qua Che però Che però Attenzione Steam è bastardo Perché in realtà La collezione Eccola qui L'informazione sul pacchetto Questo è il pacchetto completo Dei giochi chillas Guardate quanti cazzi ce ne sono Che noi non li abbiamo portati C'è Huki Honna Wow A 4,99 euro Uscito nel Nel 2020 Con questa ragazza Che sembra spruzzare Vomitare Vestito da Da sposa Ukaheri Del 2019 Tutti abbastanza uguali Un personaggio Chilas Missing Children Questo è uscito Nel 13 2020 Guardiamo un trailer A caso Che cazzo ne so Ecco Già Parte alla grande Ce ne sono tanti Poi raccontano tutte Delle storie interessanti Ora Magari non sono in italiano Sono solo in inglese Però sti cazzi Non so se notate che Gli ambienti sono Sempre gli stessi Bene Madonna Girti E dietro di te Girti Cos'è Non vedo un ca Un corpo Cos'è Un corpo di un cane Buono Buono Classica Soundtrack Che si ascolta Quando si dorme Quando si cammina In mezzo al bosco Sta prendo la porta Non capisco È finito il trailer Perfetto Perfetto Metti il voto Dino A che? A Shinkansen Shinkansen 0 Che cazzo di voto Gli posso dare Se non E Nako Sono tutti quanti Tra l'altro Recensiti molto bene Ma li hanno recensiti I giapponesi Un paese Che si sa Essere Estremamente Espansivo I giapponesi I napoletani Sono la stessa cosa Le loro Le emozioni Le estraneano Quindi Non sai mai Come Capito? Non sai come Come fare Vedi The Closing Shift Già portato The Closing Shift L'abbiamo già portato No però non è della Chillaz Comunque l'abbiamo già portato Stigmatized Priority Questo qua cos'è? Ah questo non è neanche un trailer Ha messo il menu di gioco Come trailer Beh fa paura Effettivamente Fa paura Non so a quale giocare Ragazzi Però Ce ne sono un bel po' Io quindi Li proverei un po' tutti Se vi va Il mercoledì Decidiamo di usarlo come serata Chillaz E facciamo i giochi della Chillaz Comunque votate Shinkansen Da 1 a 5 Dategli il voto al gioco Io francamente Tra tutti i giochi che mi hanno giocato Di questo genere Sulle anomalie L'ho trovato un po' Il più deboluccio O meglio Anzi no Uno dei migliori Sulle anomalie Perché comunque è particolare È diverso È una meccanica carina di gioco Dove devi invertire Anziché tornare indietro con l'anomalia Devi andare avanti Però come gioco Chillaz Non mi è piaciuto per un cazzo Cioè Rispetto agli altri Non mi è piaciuto per un cazzo Però loro Salgono e scendono Salgono e scendono Ci sta Ci sta Fatemi mettere un po' di monsica E ci rilassiamo Che cazzo è sta roba È il Divers 2 Official Warbound Democratic Donation Trailer Quattro ore fa Un nuovo trailer di El Divers Dopo lo guardiamo Ma Da uno a tredici agnelli Quanto gli dai Io non ti capisco Metti Grazie mille Per stiacciare La tua Valhalla Giangi Grazie Cash Grazie Quando giocheremo di nuovo A Minecraft Horror Domani ragazzi Lo porti a O Ogni Eh Ogni quanto Non lo sapremo Siamo in 3000 Ho visto ragazzi Siamo tantissimi Mi raccomando ragazzi Domani siateci Vi voglio Voglio di più Domani Facciamo Sta cazzo di Di serata Chiamiamola Una sorta di Di premiere Guardiamo Il primo Poi verrà pubblicato Su youtube Per carità Ma domani in live Ne parliamo Vediamo ancora un po' Lettroscena Lettore quinte La puntata Pilota Nella nostra serie Su Chiamata Ghostfuckers Dove io Daxin E Andrea Andiamo ad esplorare Questo posto Con laboratorio segreto Un ex Luogo farmaceutico Non è laboratorio segreto È un ex Casa farmaceutica Dove Testavano Facevano esperimenti Sugli animali E bla 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 Che è stata abbandonata Dal 2011 Quindi siateci Perché domani si gode Domani si gode Ovviamente In cerca degli spiriti Dei fantasmi Tu porti il gioco Here Eh Dino porti il gioco Here Non sai che non so che gioco sia Satana Adesso cerchiamo il trailer Però prima Però prima Guardiamo questo trailer Che cazzo è sta roba Pistola granata Questo è interessante New primary weapon Ah Carina anche questa Ma questa che armare Questa armatura Mi fa cagare Cioè oddio È meglio di questa Però sembra tipo Un granarolo Questo qui Granarolo America Fuck yeah Ecco Già lui Mi ispira di più Exploding crossbow Cioè una balestra esplosiva Gli Helldivers Con una balestra Gli Helldivers Che viaggiano Su navi spaziali Con una cazzo Di balestra Sistema Di propulsione Di un Di un Come si chiama Di un proiettile E quello di un filo Molto teso Ma come cazzo si fa A credere a sta boia Non c'entra Perdonami Il cazzo Non c'entra Ecco però L'elmo di Queste armature Bellissimo Allora Questa armatura Mi piace Questa anche Non è male Questa mi fa cagare Democracy Ah ma il nuovo pacchetto L'11 aprile Eh ci siamo quasi Io sto aspettando La nuova fazione Più che altro Da combattere Però Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Però carino Che gli stanno dietro Ragazzi Almeno Cioè ci sta Ci sta Ci sta Perché altrimenti Sarebbe monotono E quindi Aohoni 2 Ah c'è il 2 modi Aohoni La nuova fazione Da combattere Saranno i bergamaschi Possibile Ti consiglio di vedere Il trailer del gioco Siren Head South Point Un gioco horror Molto bello E terrificante Allo stesso tempo Christian mi hai convinto In questo preciso istante E quello che andrò a fare Siren Head Siren Head Non c'è South Point Ah perché l'ho scritto Lo stavo schiacciando L'ho scritto Tor Contra E' in arrivo E' in arrivo Ok Quindi non è ancora uscito Su Steam Vediamolo un po' So Soon Soon Parti però Cristo Giustamente Se non gli do Il tasto play Ah bello Ho fatto In pixel art Già mi piace Welcome to School is over And my friends What we can't Camping with Ok Stiamo andando In campeggio Con i nostri amici Ma all'improvviso Scopriamo che I nostri amici Sono diventati Il piatto principale Di una creatura Alta 15 metri I don't really like Camping But ya no Non mi piace il campeggio But ya no Quindi culo Yasai My friends said Hey Freddy You never hang out With us You are always at home Playing Atari Ah Siamo nei bei Nei bei tempi Va bene Quindi siamo Ma abbiamo un fucile Com'è successo Da giocare con l'Atari Davvero un fucile Vabbè ragazzi Siamo negli anni 70 80 I bambini Si sa Guidavano Prematuramente Siren Head Sound Basta Allora mi piace un sacco Lo metto subito Nella lista desideri Quando esce sta roba Stilizzati Minchia Gesù Cristo Che etichetta di merda Etichetta stilizzati Mi piace un sacco Il Il concetto Tra l'altro Vabbè qua non è neanche In pixel art L'aggiunta dopo La pixel art Mi sa Come stile Peccato che il trailer Faccia a cacare Non renda molto giustizia Però non è male Ci può stare Che strano No no Lo so cos'è la Siren Head Lo so E' una roba terrificante Vediamo Here Dino Here Non c'è Su Steam non c'è Here E' scritto così Dino gioca a Mario Kart No ragazzi Piuttosto mi scalzo Il ginocchio Con un cucchiaio piccolo Da Da dessert Quello per il tè Avete presente Dino ma cry of fear Ancora Ma basta Hai già portato Alien Isolation Certo certo L'ho già portato L'abbiamo portato Agli inizi del canale E' stata un'esperienza Incredibile Eravamo in 53 57 In live Era proprio agli inizi Dino riporti Minecraft horror Ma Mi vuoi vedere Veramente Vuoi vedere che condisco L'insalata Con i pezzi del microfono Che ho rotto a testate Cristo ti ho appena detto Che domani lo portate Me l'hai chiesto prima E ti ho risposto Domani lo portiamo O non eri tu Vabbè comunque Dino Zoonomaly Non lo porteremo mai più Mi ha rotto il cazzo Uno dei giochi più noiosi Ripetitivi della storia E questa è la verità 60 seconds lo conosco E' carino E' bello Porta folklore Hunter Sai che forse L'ho già sentito Folclore Hunter Febbraio del 2020 Attenzione Attenzione Quattro anni fa Usciva folklore Hunter Questo La classica musica Dei trailer Che a una certa Ti fanno una domanda Tipo Faresti mai sesso Con una vecchietta Cosa del genere Avete presente Cosa sei disposto a fare Ma è cooperativo? Horror Horror di sopravvivenza Caccia Co-hop Carino Grazie Questo potrei portarlo Con Andrea Anche una bella grafica Devo dire Per essere Ma forse L'abbiamo anche Già provato Folclore Hunter Night on the Winding Ma forse Sai cosa Mi sai che abbiamo provato Abbiamo provato La demo di questo Però il fatto è questo Ragazzi E' uscito content warning Sto content warning qua Sta un po' spopolando Su internet Perché è un gioco geniale Cioè Sto cazzo di gioco È un gioco geniale Quindi molto probabilmente Non solo lo giocheremo insieme Ma lo porteremo in live Più e più volte Sperando che abbia Ovviamente Aspetta L'ho già messo nella lista Desideri Sperando che ovviamente Abbia Cioè Che non sia come Lethal Company Perché ragazzi Lethal Company Bello quanto vuoi Ma dopo due settimane È morto Cioè Non c'è letteralmente Nulla da fare in quel gioco Se non Raccogliere due pezzi di metallo Tornare indietro Morire E ricominciare da capo Quindi non Ovviamente Moddato È uno dei giochi Più strani E spaventosi Il mondo Ma le mod Noi non le abbiamo inserite Per poter giocare Con voi online Quindi Attenzione Oh Eccoci qua Doveva scrocchiare da un po' Dino Zombie Army Lo hai mai portato? Quello per la Per la Wii No per la Wii Per la Come cazzo si chiamava Quel console ibrido Delle Nintendo Dai Quella schifezza Il tablet Della Nintendo gigante Non parlo Della Switch Non parlo Della Switch Come si chiamava? Wii U Eh Per il padrone Per la Wii U Quel 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 coso Hunter lì Eh Che sto dicendo Visage Mi hai già portato Dino Epic Game No Epic Game No ragazzi Ma aspetta No Epic Game Che cazzo è? Oddio Epic Game cos'era? No Capitoli di Wii U Rear Non ce ne sono Per fortuna Black Vukong Lo porteremo Dead by Daylight No Mi rifiuto Mi rifiuto Possiamo provare Una serata 60 seconds No The Guest The Guest Già portato The Guest Dino Retro to Morio Eh Miche Retro to Morio Sarebbe da ritornare Retro to Morio Eh ragazzone C'è troppa roba C'è troppa roba In sto periodo Il 18 Il 18 Abbiamo un nuovo gioco No rest for the wicked Il Appunto Adesso è uscito Questo Content Warning Che ci regalerà Un po' di serate Mentre Ci sono tutti i giochi Della Chillaz C'è C'è veramente un mondo Di roba Da portare In sto periodo Soprattutto Lato horror Quindi Pian piano Li faremo tutti Pian piano Li faremo tutti Quello che vi posso dire È Ovviamente senza offesa Lo dico Stavolta sono serio Non consigliatemi I giochi troppo vecchi Perché molto probabilmente Li abbiamo già portati Quindi Guardate prima La data d'uscita Perché se qualcosa Noi C'è Ormai facciamo Facciamo Il canale Ormai è aperto Da quasi 5 anni E sono 5 anni Che ogni gioco horror Del momento Che piace Che interessa Lo portiamo E siamo Quasi sempre I primi a portarlo Quindi Tenete d'occhio La data d'uscita Se vi state chiedendo Ma questo l'ha giocato Andate su youtube E date un occhio Perché lì sicuramente Troverete una puntata Dedicata a quel gioco lì Sicuro come l'ho È mai giocato The Last of Us 2? Conosci un gioco Che si chiama Bigfoot? Ecco Unravel Non l'ho mai giocato Non l'ho mai giocato Dino ma Valheim? Io non saluto Che devo andare a dormire Buonanotte Buonanotte Mi raccomando Prima di andare a letto Ti consiglio di fare una cosa Non lavarti i denti E mangiati dei cracker Il giorno dopo Il giorno dopo Ti svegli con la lingua Che è essiccata Come una prugna secca Però il bicchiere D'acqua che bevi Mattutino Ti riporta al mondo Cioè proprio Tu rischi la vita Mentre dormi Però appena Appena bevi Quel bicchiere di acqua Appena ti svegli Proprio senti la lingua Che fa È bellissimo È bellissimo Secondo me ogni tanto Bisogna soffrire Per apprezzare ciò che si ha Ravel 2 Tu e Andrea E mi sa che Allora Io sto cercando dei giochi Allora Quello che vorrei fare sono Al di là delle horror Perché noi possiamo fare Solo horror night E francamente Non è che dopo un po' Gli horror finiscono Vorrei portare Una serata di rage game Quindi scegliere Dei giochi rage Da portare E provare a farli insieme E E vedere un po' Come viene la serata Ovviamente devo scegliere Una serata dove Non rompo i coglioni Perché di là Lei adesso sta studiando In più ci sono i vicini di casa Non mi posso urlare Tutto il tempo Quindi per adesso Non l'ho mai fatto Per questo motivo Perché un conto Un jumpscare Due Tre jumpscare Alla volta Un conto è urlare Per due ore Perché io sono una persona Che si incazza Molto 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 Facilmente E E poi la serata Cooperativa Sia con voi Che solo con il maestro Ovviamente Però abbiamo A trovare Dei giochi Per farlo Dead Space Mai portato? Bisogna insonorizzare La stanza Eh sì È difficile Appena Di controllare Su youtube Daxin Lascia perdere Non È come combattere Contro i mulini a vento Lascia Guarda sto Pianchendo Lascia fare Dax È andato ormai Dino Non ti avevo mai visto Senso occhiali No no Non avevo mai visto io Senso occhiali Fidati Non vedo Senso occhiali The Witcher A caso No ragazzi Io non sono come Sabaku Che fa finta di non aver mai Giocato un gioco Che hanno giocato tutti Per farci una blind run Dieci anni dopo l'uscita No Non faccio così Ciao Sabaku Ciao Michele Quanto te manca? A poco Adesso da breve Chiudiamo Dieci minuti Adesso voi mi dite Il content Il vostro Allora Fermi Fermi Con massimo rispetto Mi dite il content creator Che odiate di più Sono curioso Voglio sapere cosa ne pensa La community di CoppTV Chi Qual è il personaggio Che odia di più Di retino Ovviamente Dario Moccia Seriamente Tato Mocce Zebo89 Quello Chi Qualsiasi persona sana di mente Non lo Non lo gradisce Aspetta Fermi Buoni Buoni Chiara Ferragni Che cazzo Cosa c'entra adesso Comunque si Il cer Allora Sto fermando la chat Ragazzi Il cerbero Ciccio Gamer C'è tutti praticamente Mario Sturniolo No no Non che Ciccio Gamer Sia tutti noi Perché Nel senso Mario Sturniolo Veramente Daxian Ti sta sul cazzo Non capisco Adesso non capisco Se state giocando o no Io trovo Che sia Veramente divertente E Dario Moccia il problema Sono con te Mario Gioco ad Animal Crossing Cosa c'entra Non si sa Il maestro Nervi No Vabbè Blur Ovviamente Dovano filarcelo dentro Yotobi Mi sta sulle palle Yotobi Che t'ha fatto Scherzo Fa spaccare Allora se scherzi E fa spaccare Potevi anche non dirlo Greenbound Sono serio Greenbound Insopportabile Merrino Dottor Bavaro Ma non è un content creator Vabbè si effettivamente È un creatore di contenuti Ormai The Long Gamer Ma che t'ha fatto Dai come cazzo fa A starti sulle palle Gioca i giochi survival Per i cazzi suoi Cioè cosa fa Cosa fa Di male Poverino Il rosso Il rosso Non so neanche Chi cazzo sia Il rosso Kodomo Questa è allucinante Potentissima Kokeshi Incredibile I me la godo Tutti Tutti Me contro te Fanno cagare Un pagliascio Addirittura Quel tipo di donne Streamer Che Stanno Stanno lì Solo per farle vedere Ah ma sti cazzi Da dove prendi i giochi? Ma Li prendo da un'ispirazione Mi sveglio la mattina E penso a qualcosa E questo magicamente Compare su Steam La voce di Lion The Long Gamer Uno dei pochi veramente bravi Adesso Non esageriamo Però Io seguivo Long Gamer Tempo fa Quando Vabbè Sempre portato Giochi Survival Io ho la fissa Per il survival Mi piacevano Alcuni Non tutti E guardavo ogni tanto Qualche serie No esagerata Qualche video Perché non sono mai stato Uno che fruisce molto Dei gameplay Guardavo più altre cose Su YouTube In generale A meno che si trattasse Di qualche serie Che seguivo Che mi interessasse Cioè tipo Ho visto serie intere Di Sabaku Noia Devastante Ma anche amore Fulgorante E E parliamo anche Di altri tempi Era un'altra persona Un altro modo Di intrattenere C'era un altro tipo Di concetto Del gameplay Eccetera Però solitamente Non guardavo E guardavo The Long Dark Forse Non mi ricordo Forse era su Subnautica Perché volevo Volevo Noi ero indeciso Se comprare o no Subnautica Per il PC Perché già Ce l'avevo su Playstation Se non sbaglio Volevo vedere Che cosa ci fosse Con l'aggiunta Su PC Cosa cambiasse Alla fine Mi sono perso Un po' Nei suoi video E ho scoperto Quanto lui È professionale Nel senso Che quest'uomo Si sbatte le balle In maniera devastante Per creare un video Perché se Nella sua testa Si è immaginato Di costruire Una base Di 700 metri quadri Sotto Due miliardi Di tonnellate d'acqua Questo impazzisce E lo fa E lo fa E per farlo Tu sai Da videogiocatore Di quel gioco Sai quanto tempo Ci voglia Quante risorse servono E questo spreca Sette mesi Della sua vita Per fare quella Cagata di video È allucinante Quindi da quel punto Di vista lì Tanto di Tanto di cappello Per il resto Non mi interessa Quando Sabacco Non è ancora Il capo Di una setta Matteo KS Non ho mai riso Neanche per un secondo Con tutte le clip E con tutto il contenuto Non ho mai sorriso Non ho mai provato nulla Nulla Neanche un suono Neanche un'idea Neanche un Niente Con Matteo KS Nulla Mai Never Never Non ho mai capito Ti vi giuro Non ho mai capito Non ho mai capito Il motivo per cui è lì Non l'ho mai capito Mai Non ho nulla Contro di lui Cioè si è chiaro Dico semplicemente Io ve lo sapete Sono molto Cioè se una roba Non mi piace Non mi interessa Lo dico così come Se mi piace Mi interessa Lo dico Volevo dirti Eh Non ho capito un cazzo Fermi Ilari Grazie mille Bestiascia Ciao 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 Ilari Come si chiama Quella che fa la vocina Da bambina di 10 anni La odio Credo tu Intenda La ragazza Di Di coso Di Di Più di pie E invece Chi ti piace Vabbè Allora Ne avevamo già parlato Vabbè Quei due sul server Mi hanno sempre fatto Pisciare di più Che altro Sinergo Sinergo per me E' uno degli uomini Più divertenti Di internet Un tempismo comico Fa di quelle battute Allucinanti Però io ragazzi Sono più per la vecchia Youtube E sia chiaro Perché di nuovi Non ne conosco un cazzo Sono completamente Ignorante Quindi adesso Sparerò nomi Abbastanza classici Sabaku Come vi dicevo Lo seguivo Mi piace Più che altro Più che piacermi Rispetto quello che fa Perché lo fa Veramente con passione Marco Merino Ai tempi d'oro Poi abbiamo avuto Un dissing Adesso mi sta sulle palle Anche perché mi aveva promesso Di giocare insieme E poi un cazzo Quindi ce l'ho qui Ce l'ho qui Ce l'ho in questo punto qui Ma facciamo finta di niente Facciamo finta di niente Favij Favij ma hai fregato un cazzo I pantellas No cioè Favij È divertente Ma non Non era il mio contenuto Ecco E poi guardavo Più di Pi A quell'epoca Che era Diciamo Un po' La base Dalla quale Prendeva Più di Favij Cioè Non è che copiasse Però aveva il suo stile Ma faceva quello Era quel periodo In cui Youtube A proda Gaming di Youtube Arriva al 100% E quindi In Italia E quindi Si porta dietro La roba dall'America Quindi chi era italiano Voleva fare contenuti di gaming Solitamente andava a prendere Pari pari Quello che usciva in America Lo portava Non è che lo faceva A prescindere Aveva un suo stile Aveva un suo gesto No portava letteralmente Le stesse identiche cose Nello stesso identico giorno In base a quelle uscite Degli altri Degli altri content Quindi Cose così Poi Chi altro Mi viene in mente Vabbè Player Inside Allucinanti Sempre piaciuti Ghostfuckers Uscirà anche su Youtube Grazie a Daxin Per questa intro Incredibile Guardavo Rexen89 Che Quasi nessuno Sa chi cazzo sia Mike Shoshan Non l'ho mai visto Ragazzi Non l'ho mai visto Un suo video Vi giuro Non l'ho mai visto Anzi L'altro giorno Gli ho commentato Su TikTok Non so se riesco a trovare Perché mi è comparso Su TikTok Con un video Un video Aspetta che forse Forse ve lo faccio vedere Aspetta Forse riesco a trovarlo Aspetta Aspetta Vediamo se riesco Allora Vediamo un attimo Lo sentite Ho fermato il video E la prima cosa Che ho commentato È Ma che ti urli Ma ha sfondato I team Ti giuro Io mi sono svegliato Ero appena sveglio Apro Ciao ragazzi E ho detto Che cazzo ti urli Basta Questo è stato L'unico commento Che gli ho fatto È stata l'unica cosa Che ho commentato Di lui Non lo seguo Non so cosa Cioè so che fa gaming So che è uno dei più grandi In assoluto su YouTube Però Mai seguito Rispetto a quello che fa Però non capisco Che si urla Ehm Non ha risposto No Assolutamente Yotobi No Yotobi mi piace Yotobi mi piace Allora Yotobi Secondo me Ha avuto un'evoluzione Che poche persone Che pochi creator Hanno avuto su internet Ehm E questo è Sia positivo Che negativo Per alcuni Ehm Io trovo che sia Bello vedere Che c'è un cambiamento Ho sempre adorato Claudio Di Biagio Il cane secco Gli ho sempre amati Perché? Perché sono estremamente creativi Si legano al cinema E Cristo Sono E' gente che Si evolve col tempo Cioè Per questo è quello Che vogliamo fare anche noi Ossia Noi facciamo gaming Ma adesso stiamo iniziando A fare qualcos'altro Stiamo un pochino Uscendo dal seminato Sperando che possa piacervi Facendo cazzatine del genere Come ad esempio I ghost fuckers Projectirle Queste robe qui Creando qualcosina di nuovo Ecco A me questa cosa mi piace Perché va bene Che tu hai il tuo E la tua nicchia Però se rimani in quella Non solo dopo un po' Inizi anche a sentire Il peso della monotonia Ma non c'è più creatività Tu ti spegni letteralmente Muori E ti rompi i coglioni E come molti content creator Magari a una certa Inizi ad avere quella cazzo Di crisi di mezza età Da lavoro Perché alla fine Non è che E ti deprimi Ti deprimi Non ti piace più E poi Vuoi smettere E diventa semplicemente Una corsa all'oro Cioè raccimolo Più soldi che posso Poi quando sono a posto Monetariamente Mi levo dalle balle Non esisto più Ora io non voglio fare nomi Ma sapete benissimo Che di quali streamer Mi sto riferendo io E questo capita molto Soprattutto a concetto di streamer Proprio streaming Yotobi per me ha avuto le balle Dico balle Perché altrimenti Di cambiare Mettersi in gioco E tirare fuori Delle piccole chicche Ora Tipo mostarda Per me è una delle cose Più divertenti e geniali Che avesse mai fatto Poi col tempo Secondo me Si è spostato In una direzione Che a me non piace Cioè Il video di Yotobi Canale ufficiale Non mi piace Mi annoiano tantissimo E non me ne frego un cazzo Ma ci sono Ma se ci sono dei video belli Che guardo più che volentieri Appena esce Lo guardo subito Sono i video di Yotobi Games Dove parla di videogiochi Ma lo fa A modo Nel modo in cui Lo farebbe Yotobi Ovviamente Video corti Che ti narrano Una piccola storia Di lui che magari Si basa su qualche cosa Ed è geniale Cioè È veramente carino È un content molto bello Secondo me Ti fa passare il tempo Ehm Per il resto È un depresso È un malinconico Maurizio Merluzzo Beh ragazzi Maurizio Merluzzo Lo conosco Per il suo lavoro Di doppiaggio In realtà Per il content creator Cotto e frullato Quelle robe lì Me ne sono sempre Sbattuto le balle Nel senso che Non l'ho mai seguito Da quel punto di vista È una persona Con una voce incredibile Che gli invidio Ehm Ma io sono più bello Quindi sostanzialmente Poi Che altro avete detto Il mio credito Il preferito È Kinito Ti prego Riporti il gioco In cui fai Le autopsie Ma lo modi Per raggiungere Altri jumps Si può modare? Definite Tutto si può modare Akamat Akamat è il ragazzo Che disegna? Non mi ricordo Sì È lui Non mi ricordo È lui Akamat è quello che disegna Non so ragazzi Perdonatemi Non me li ricordo Xyuder Non ho mai visto niente Di Xyuder No gli Akamat Sono super belli Da bambina Li seguivo Fanno le reaction Ah Ho capito di chi parli Sì 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 No non li guardavo Ragazzi Non li guardavo Quello è Richard Htt Richard Htt Ha dei capelli Orrendi Ma è bravissimo Poldo lo conosci Dino Come no È l'alcolista Del quartiere Poi non so Se ti riferisce Allo stesso No non giochiamo più Ragazzi Adesso Stiamo Che la stiamo Cazzeggiando Poi Il Marzone È Gli streamer Ragazzi È un mondo A me ormai Giumbodrillo È eccezionale Io vorrei conoscerlo Dal vivo Figa È insopportabile Quanto Quanto mi faccia tenerezza E allo stesso tempo Quanto apprezzi Quello che faccio Ci sono delle cose Che faccio giù Mi fanno pisciare Da ridere C'è un modo Di scherzare È fottutamente geniale È una persona Intelligente Poi a volte Mi cago il cazzo Perché parla sempre Le stesse tre robe È una di quelle persone Che è rimasta Molto legata Al passato Quindi vabbè Anche per via Del suo pubblico Parla sempre Di scuola Di robe Dopo un po' Quando c'hai Quasi trent'anni Direi anche Basta parlare Delle prime pomiciate Quando Quando eri a scuola Le medie Perché francamente Fa anche un po' Paura Però Devo dire che Mi fa crepare Da ridere Ciccio gamer Ragazzi Non ho mai seguito Niente di Ciccio gamer Sinceramente Non mi sta Neanche simpatico Conosci CopTV Su Youtube No Su TikTok So che è un Tiktoker Ma comunque Gli streamer Ragazzi Non è Non è un mondo C'è lo streaming Facendolo Non lo guardo Youtube Ancora ancora Sì Facendolo Non lo guardo Mi informo Su quello che è Diciamo Prima lo guardavo Di più Quando abbiamo iniziato Twitch Guardavo molto di più Twitch Per capire come funzionava Una volta che poi Abbiamo avuto La nostra nicchia Abbiamo iniziato Il nostro canale Al 100% Proprio smesso Di guardare gli altri Perché non Gaming Non l'ho mai visto Però mi informavo Un po' su quello Che accadeva Sui ban Cioè ancora adesso Mi informo Per chiarità E i personaggi Come Marza Eccetera Che credo Perché magari Lavorano da anni Però Che tra virgolette Li definisco Nuovi Cioè che adesso Stanno avendo Insomma Una certa risonanza Non li conosco A parte Sturniologhi Che mi fa crepare Da ridere Perché vedo Vedo le sue clip E reagisce esattamente Come reagirei io A Dario Moccia Insopportabile Dario Moccia Andrea del 1998 Ovviamente Il nostro fratello Di sangue Ma che c'entra Geopop Geopop è un bellissimo canale Human Safari Bellissimo canale Anzi Non Human Safari Nicolò Balini Human Safari Mi cago le balle Il Grabone Il Grabone Lo conosco Lo conosco Assolutamente No non lo conosco Il Grabone Cioè so chi è Ma non è Daniele doesn't matter Il vampiro Di youtube Falco Nero Falco Nero è bravo Non sono Molto d'accordo Con quello che dice Ma ci sta Suricato Oddio Suricato Chi cazzo era Non lo so Marco Tonni È la rappresentazione Del male Dentro ognuno di noi Cioè se Pensi al male Ha la voce Di Marco Tonni Bill Gates Michael Righini Allora A me fa anche Mi dispiace Perché si ha anche Scritto dicendo Vi seguo sempre Mi fate ridere Grazie mille Io lo seguivo Ma tantissimo tempo fa Guardavo i suoi video In quel periodo In cui andava di moda A fare i teatrini Le gag comiche Eccetera Ma non rido Non rido Non ce la faccio Maria Sofia Non è Niente C'è Nel senso Mister Beast È un tizio ricco Quindi chi è ricco Può fare quello che fa lui Dino porti portal E avrebbe senso Effettivamente Riccardo Dose Per le esplorazioni No Non lo seguivo Ci credi che non lo seguivo Cioè Non l'ho mai Non ho mai visto Niente di lui Tanto che La pagina con cui stiamo collaborando Che è Ascosi Lasciti Che è quella che ci dice Le location E ci sta aiutando A trovare i posti Per fare quello che facciamo Poi ragazzi Adesso devo chiudere Che è tardissimo Mi fa Abbiamo lavorato con Riccardo Dose E io ho detto Ah ok Cioè Non sapevo Hanno lavorato insieme Hanno fatto Queste esplorazioni Appunto insieme Però noi non facciamo Le esplorazioni Facciamo altro Cioè I Ghost Watchers I Ghost Fuckers Che è un'altra roba E E non lo seguo L'ho seguito all'inizio Poi non mi ispirava più Mark Piller Ha la voce più bella Del mondo Quel tale Ale No Non lo guardo Come stanno i cani Che canale è Come stanno i cani Questi acce Devo scappare Che a proposito di cani Sono le 37 Allora ci vediamo domani Alle 21 e 30 Siateci che c'è La prima di Ghost Fuckers Mi raccomando Cazzo siateci Sarà una puntata Comunque breve Vi spieghiamo Tutto quanto domani Parleremo poi Di quello che è Di quello che sarà La serie Di come la portiamo avanti Probabilmente cercheremo Di far uscire Una puntata a settimana Non sappiamo Se faremo sempre La premiere qua su Twitch Ma semplicemente La pubblichiamo Su Youtube Adesso cerchiamo Un attimo di capire Mi raccomando Perché veramente Per noi È una piccola Un piccolo rinascimento Del canale E non vediamo l'ora Di farvelo vedere E ci vediamo domani Alle 21 e 30 Facciamo quello Poi una volta Che abbiamo fatto Anche tutte le considerazioni Parlato del progetto Eccetera eccetera Dopo ci mettiamo A giocare A Minecraft Il gioco Il gioco più bello Del mondo Ciao Ci vediamo domani Vi voglio bene Grazie per tutto Bestiacce Ciao 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 c'è